... per Mazzarri, meno di 200 giorni dopo, dall'importunio avventura del termine da chiede, il quarantenne Capriar Saletti potrà giocare la partita numero 604 dove la sua storia è in Serie A. E insomma, noi, ma credo tutti da casa, non soliti così la chiede, si tocca con il cappello. Sì, grande ammirazione per un giocatore straordinario, soprattutto un giocatore con valori morali straordinari. Sì, grande ammirazione per un giocatore straordinario, ma è arrivato un cartellino già una schiattarella, ma questo è il momento del capitale dell'Inter, che riceve gli applausi non solo al pubblico di San Siro, ma di molti suoi compagni che lo stanno accogliendo in campo. Si è messo come interno destro nel centrocampo dell'Inter, per dare sostanza, per dare corsa, per dare esperienza, per dare incoraggiamento anche alla squadra in questi ultimi dieci minuti. da un pittotto aprile a Valerbo, giù nell'infortunio.